Dal 26 novembre due palazzine di via Luigi Ugolini a Ostia Antica sono senza linea telefonica. Un problema non da poco, soprattutto se ha effetti sulla linea internet con enormi disagi per chi lavora da casa. I problemi più gravi però ricadono sugli anziani del quartiere che vedono di fatto interrotta qualsiasi forma di comunicazione con il mondo esterno. Come se non bastasse, la strada su cui sono intervenuti gli operai è ora ridotta a un cantiere con tanto di asfalto crollato e una vistosa voragine recintata con reti arancioni. Il cavo portante di tutta la telefonia si è interrotto e loro sono venuti a scavare nel punto dove la tecnologia ha indicato la rottura. Mentre scavavano hanno rotto un altro cavo, quello lì l'hanno riparato e hanno ridato la telefonia a questa e a quello, questi due palazzi. A noi e a questi qua niente. Hanno detto che rivenivano, io ho detto ma prima di Natale c'è finito il lavoro. Dice, fra 3-4 giorni è stato tutto a posto, sono passati 10 giorni e ancora stiamo in queste condizioni. Soprattutto per me e mia moglie che siamo oltre 80 anni tutte e due, se abbiamo bisogno, lui lavora, rimaniamo soli e stiamo soli, che significa? Se io dobbiamo chiamare qualcuno non possiamo. Siete tagliati fuori dal mondo. Esattamente, non solo dal territorio ma diciamo in generale dal mondo intero. Siamo senza linea telefonica e senza internet dal 25 novembre. Lei lavora con i computer? Io ci lavoro, ci controllo anche le cose della banca, insomma, con internet ormai penso che... Come fa adesso? E niente, devo spostarmi, andare da altre parti, oppure col telefonino quando posso, quello che posso fare, altrimenti mi sposto e devo andare in altre sedi per riuscire a fare le operazioni di lavoro necessarie. E danni anche concreti? Sì, danni concreti ma è assurdo. Io sono più preoccupato per la situazione dei miei genitori che sono anziani e il giorno stanno da soli a casa. Se hanno bisogno di qualcosa non hanno il telefono per chiamare nessuno. Questa è la cosa più preoccupante. Però sembra che a questi signori non interessi. Non si può parlare con nessun responsabile perché non ti viene passato nessuno al telefono. Si parla con voci automatiche. Quando risponde qualcuno rispondono dai call center, dalla Romania. Che poverini, anche loro non sanno poi... L'unica cosa che possono fare è segnalare alla Telecom o agli interessati il problema. Però non si può parlare con nessuno. Non esiste poter parlare con un dirigente, con qualcuno che conta perché evidentemente rimangono dietro le scrivanie al calduccio. I cittadini si sentono persi e alla desolazione si aggiunge la rabbia per l'incompetenza e il disinteresse dei responsabili. Sarebbe quindi opportuno cercare di porre il rimedio il prima possibile perché anche queste persone hanno tutto il diritto di chiamare ed essere chiamati per ricevere gli auguri di Natale.